Oggi è l'ultimo venerdì di Quaresima, leggiamo dal sito della Santissima Annunziata di Ispica. Per tutti gli ispicesi, l'ultimo venerdì di Quaresima è o venneri la Santa Cascia. È un giorno in cui si avverte un cambiamento nell'aria. L'atmosfera è in città muta, si entra nel cuore del clima emotivo e religioso della Simana Santa. I sentimenti di devozione dei fedeli, in special modo quelli nonziatari, si accendono in misura particolare. La sera di questo giorno che in effetti inaugura i riti della Settimana Santa, pur non trovandoci ancora propriamente nel periodo liturgico della Settimana Santa, che va dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Resurrezione, i membri dell'Arci Confraternita della Santissima Annunziata, che affonda le sue radici nel XV secolo, portano in processione un'urna d'argento. A Santa Cascia, contenente oltre alle reliquie di diversi santi una preziosa reliquia della passione, una spina della corona che cinse il capo di Gesù, a Santa Spina appunto.